E' partita ufficialmente, possiamo dire, la nuova stagione per il Valle Soverato con l'ingaggio e l'ufficializzazione del nuovo allenatore. Bruno Napolitano siederà sulla panchina bianco-rossa per la stagione 2018-2019. Sicuramente un motivo di grande soddisfazione anche per il presidente Matozzo, un calabrese che allenerà una squadra calabrese. Questo sicuramente è un aspetto da non sottovalutare. Sicuramente è una bella cosa che a me fa tanto piacere, anche perché Bruno Napolitano è stato un allenatore più volte nel mirino delle Valle Soverato, poi per vicissitudine che non è il caso di ripetere oggi non è stato possibile. Però Bruno rappresentava, secondo me, l'allenatore calabrese di carattere, calabrese nel vero senso dell'espressione, per una squadra calabrese. Ho avuto sempre un po' questo pallino. Mi auguro che questa volta abbiamo centrato l'obiettivo per avere un allenatore grintoso che abbia voglia, ovviamente, non solo il presidente Matozzo di Soverato calabrese, ma anche l'allenatore che è calabrese per poter portare avanti questa società che è il nono anno con questo, che ha sempre questo mirino che non siamo mai riusciti a raggiungere per un sacco di motivazioni, che è la 1 in Calabria. Un neoallenatore che ha accolto, a detta del presidente Matozzo, con grande entusiasmo questa nuova avventura, quindi questo è anche un buon viatico per costruire una squadra che anche quest'anno dovrà recitare un ruolo da protagonista in questo campionato di A2 che si preannuncia un po' diverso dagli altri per via di alcune regole che sono cambiate e quindi di conseguenza sarà rispetto agli altri campionati una A2 diversa. Ma guarda Pietro, io ho tanti anni di presidenza di Pallavolo e gli anni sono tantissimi, di allenatori che sono arrivati a Soverato ne ho visti tanti. Diciamo che gli allenatori che hanno manifestato grande entusiasmo e l'hanno poi trasmesso sul campo, io ne ho avuto uno solo, che è Massimo Salvago, che ho sempre chiamato amichevolmente lo zingoro della Pallavolo, che era un grossissimo praticone che era innamorato della Pallavolo Calabrese e che ha fatto di tutto per portare avanti la Pallavolo Soverato. Del resto noi siamo stati promossi in B1 con Massimo Salvago, allenatore, dove ha fatto delle alchimie che credo che un allenatore normale, non pazzo come lui, l'ho mai fatto in campo. A lui è andato tutto bene, a lui gli ho dato sempre tanta riconoscenza e nei confronti di Salvago il cittadino di Soverato tifoso ha avuto sempre un occhio di rispetto. Adesso si presenta, guarda Casostrano, per la prima volta un'altra occasione di un allenatore calabrese alla guida di una squadra calabrese. Cosa dire di Bruno Napoletano? Che non ho mai visto neanche in Salvago l'entusiasmo, la passione che mi ha manifestato Bruno Napoletano. Cioè questo signore che tutto sommato è un allenatore di esperienza, che era a Gioveno, che era a Parma, che ha avuto sicuramente successi, ha dimostrato di voler venire a Soverato perché vuole bene alla Calabria e vuole far crescere questa nostra terra. Il passato è passato, questo non significa che la volle Soverato non debba ringraziare Barbieri per quanto ha fatto l'anno scorso, ci mancherebbe. Noi non siamo mai stati contro nessuno, né vogliamo mai avere nemici di nessuno. L'epoca Barbieri è finita, quest'anno non abbiamo avuto motivo di continuare, ma ritengo che a lui vada fatto il mio grazie. Come dico grazie già a priori al Bruno Napoletano che ha torto a ragioni, non so se mi sbaglio, ma ha manifestato una voglia e una passione veramente che mi ha commosso e mi ha letteralmente strabigliato. Per cui io penso che con questa scelta, ancora una volta, la volle Soverato si deve proporre per giocare un ruolo importante in questo campionato. È difficilissimo perché le nuove regole che ci sono sono micidiali. Pensa che ci vuole una sola straniera e non due. annuncio a tutti i tifosi che la Grey è andata in A1. La Grey, come tutte le altre straniere che sono passate da Soverato, dopo un anno a Soverato sono andati in A1, che significa che siamo una società che sappiamo scoprire talenti, che però siamo sfortunati perché non restano a Soverato. Allora io dico ai tifosi, queste giocateci non è che non rimangono a Soverato perché non li vuole il Presidente della Città, non rimangono a Soverato perché sono richieste dalla A1 e quando un giocatore, una giocatrice di spessore, la chiama Pomica Salmaggiore e offre un ingaggio di A1, mi può mandare un bacio, dieci baci di ingratimento l'Alexia Grey, ma se ne va a giocare Pomica Salmaggiore e a lei facciamo tantissimi auguri che possa avere gli stessi successi che ha avuto e dimostrato a Soverato quando è arrivata ed era un'illustre sconosciuta, non la conosceva nessuno, con nome non conoscevano la Bocana, con nome non conoscevano Raima Rosa, come la Nesovic, noi ci ventiamo di questo. Quindi caro Pietro, nella buona e nella cattiva sorte abbiamo dimostrato di poter scoprire talenti e perché no, anche degli allenatori. La finale di A2, promozione, playoff, l'hanno disputata due noi ex allenatori. Allora, viva Dio, insisto io Pietro, che tu ne voglia, io voglio vincere un campionato per andare in A1. Facciamo di tutto con Bruno Napoletano adesso e io mi auguro con tutto lo staff tecnico che già abbiamo avuto da anni per raggiungere questo obiettivo, per fare una squadra competitiva puntando su un rinnovamento, non dico totale, ma quasi, di giocatrici che hanno voglia di raggiungere obiettivi, di giocatrici che stanno qua solo per il gusto di stare a Soverato. Io quest'anno non ne proporrò neanche una alla Bruno Napoletano. Voglio giocatrici che vengono qua, che hanno voglia di raggiungere gli obiettivi, di mettersi in evidenza, magari di andarsene neanche via il prossimo anno, ma che giocano perché vogliono diventare delle giocatrici forti. Gente che viene qua a svernare per qualsiasi altra motivazione, personalmente quest'anno io non ne vorrò neanche una.